Bentornato sul canale YouTube di Semprefarmacia.it Spesso si sente parlare di fegato grasso, una condizione fortemente correlata a stile di vita e dieta scorretti Ma anche a patologie come diabete e obesità Ma cosa si intende esattamente con fegato grasso? Quali sono le cause, come si manifesta e soprattutto come è possibile intervenire per prevenire le possibili conseguenze più gravi come la cirrosi? Le risposte in questo video È scientificamente provato che se metti like e ti iscrivi al canale starei molto meglio Il nome scientifico del fegato grasso è steatosi epatica ed è una condizione caratterizzata dall'eccessivo accumulo di grassi sotto forma di trigliceridi nelle cellule del fegato Si parla di steatosi epatica quando il peso dei grassi accumulati supera il 5% del peso del fegato È una condizione che insorge generalmente tra i 40 e i 60 anni e che è asintomatica Se la situazione persiste però può sfociare in infiammazione del fegato definita steatoepatite e nei casi più gravi in cirrosi con danni gravi e permanenti È quindi importante intervenire precocemente Come anticipato la steatosi epatica è raramente sintomatica Se ci sono i sintomi è perché c'è già un'alterazione funzionale del fegato Quando presenti i sintomi più comuni sono debolezza e forte stanchezza dovuta appunto al malfunzionamento del fegato Una sensazione di pienezza data appunto dall'accumulo di grasso nelle cellule del fegato E un gonfiore addominale che porta anche a dolore addominale Negli stati più avanzati è possibile riscontrare l'ingrossamento del fegato Che il medico può valutare con un semplice esame obiettivo cioè l'analisi fisica del paziente Ittero cioè la colorazione gialla della pelle e della sclera E ascite cioè l'accumulo di liquidi nell'addome La steatosi epatica è in genere provocata da stile di vita e dieta scorretti Che poi sono gli stessi fattori che determinano l'insorgere di malattie metaboliche Tra le cause più comuni ricordiamo il consumo di grandi quantità di alcol Sovrappeso e obesità, dislipidemie cioè alterati i valori dei grassi nel sangue E diabete con l'insulino resistenza che ne deriva Esistono però anche altre cause meno comuni come malattie metaboliche ereditarie Oppure l'assunzione di farmaci come alcuni chemioterapici o cortisonici Ma anche la gravidanza negli ultimi mesi Oppure il dimagrimento molto rapido in seguito a diete troppo restrittive In particolare povere di proteine In questo caso si altera il metabolismo dei grassi La diagnosi di steatosi epatica arriva spesso in seguito ad indagini fatte per altre problematiche È infatti possibile accorgersene con gli esami del sangue o una semplice ecografia Ad esempio la semplice misurazione delle transaminasi permette di capire se il fegato funziona correttamente Anche gli esami di diagnostica per immagine possono essere molto utili Se non basta la semplice ecografia si può ricorrere alla risonanza magnetica o alla tomografia Se la problematica riscontrata si limita alla sola steatosi epatica è possibile intervenire per far regredire la situazione Grazie a stile di vita alimentazione se necessario integratori e farmaci Adottare uno stile di vita sano è la prima regola per curare la steatosi epatica Basta seguire dei semplici consigli Eliminare l'alcol e il fumo Praticare una leggera attività fisica costante Se necessario dimagrire fino a raggiungere un peso coerente con un buono stato di salute Seguire una corretta alimentazione e quindi fare pasti regolari Scegliere cibi ricchi di fibre, di grassi insaturi e poveri di zuccheri raffinati In caso di steatosi epatica è possibile avvalersi anche dell'utilizzo di integratori Che favoriscono il metabolismo di grassi a livello epatico e quindi la loro eliminazione attraverso la bile Sono alcuni esempi il carciofo, il cardomariano, il rosmarino ma anche la curcuma e gli omega 3 L'elenco è lungo ma a questo link puoi trovare una selezione dei migliori prodotti per il benessere del fegato su semprefarmacia.it Nel caso in cui la steatosi epatica sia riconducibile ad una malattia, chiaramente si deve curare quella malattia In particolare si parla di malattie metaboliche, quindi saranno farmaci per il diabete o per le dislipidemie Abbiamo visto che la steatosi epatica, comunemente definita fegato grasso, è una condizione reversibile E sulla quale è possibile intervenire con stile di vita e alimentazione Se hai domande lascia un commento Un saluto dalla dottoressa Valentina di semprefarmacia.it La tua farmacia sempre con te